vediamo chi vuole insegnarmi l'alfabeto io 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 sapevi che ci sono 26 lettere nell'alfabeto 26 sì sono tante lettere è un'avventura imparare l'alfabeto impareremo tutte le lettere pronti ora via a b c d e f g noi ci siamo un due tre a sta per alligator b sta per bear c sta per caterpillar bello dov'è proprio qui ma diventeranno farfalle d sta per dor e sta per eggs f sta per fairy puff glitter sulle tue gambe g sta per giraffe h sta per horse i sta per ice cream abbondante naturalmente j sta per j mi piace la fragola k sta per chi guardatemi l sta per lab oh senti come canta è un'avventura imparare l'alfabeto impareremo tutte le lettere pronti ora via stiamo insegnando alla mamma stiamo insegnando alla mamma m sta per mammi puoi dire mammi n sta per mammi numero r r sta per red il rosso più rosso che abbia visto s per salami t sta per tail u sta per underwear è un'avventura imparare l'alfabeto impareremo tutte le lettere pronti ora via oh non è adorabile V sta per Worms W sta per Worms X sta per M tutte le parole che iniziano per X sono molto difficili da dire e che ne dici di xylophone? si buona questa Y sta per Yannick voglio andare a dormire Z conto le zebbre uno aspetta non intendi che le pecora? è un'avventura imparare con la bici mamma ha imparato le lettere grazie sono soddisfatta si urrà per la mamma veramente la mamma è felice non c'è di che credo sia ora di imparare a contare i numeri possiamo contare le caramelle invece? forse questo ha una caramella dentro wow possiamo contare le uova di cioccolata? e lecca lecca e con il gelato cominciamo con le cose semplici che ne dite? guardate queste uova ci sono dentro i dolci quante ce ne sono decidi tu togliamo le uova dite quando e inizieremo da uno a dieci voglio sapere cosa c'è dentro e scommetto che dentro ci sono delle caramelle ecco qua un piccolo uovo contatelo uno potete aprirlo tutti insieme aggiungi un altro uovo ne abbiamo due due piccole uova per me e per te forte ma guarda un po' aggiungiamone altri finché non arriviamo a dieci ecco un altro uovo ne abbiamo tre tre piccole uova fammi vedere uno due tre guarda ecco un altro uovo ne abbiamo quattro quattro piccole uova che bussano alla porta uno due tre quattro cosa c'è dentro l'uovo? una paperella di gomma aggiungi un altro uovo ora sono cinque cinque piccole uova con dentro delle chicche uno due tre quattro cinque oh oh fammi vedere contate un altro uovo ora sono sei sei piccole uova sono tante ecco me uno due tre quattro cinque sei aprilo 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 wow è un t-rex aggiungi un altro uovo e fanno sette sette piccole uova aspetta aspetta non sono undici no bonnie dopo il sei arriva il sette aah uno due tre quattro cinque sei undici e cioè sette aah contiamo ancora aggiungi un altro uovo e fanno otto otto uovetti aspetta uno due tre quattro cinque sei sette otto aah la 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 si signore aggiungi un altro uovo ne abbiamo nove nove piccole uova e sono tutte mie ora continuate a contare uno due tre quattro cinque sei sette otto nove l'ultimo uovo così fan dieci dieci uovetti contiamo lei di nuovo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci piccole uova contiamole ancora urrà è un puzzle chi vuole giocare? io sì io sì contiamo dieci pezzi sì andiamo alla bottega della fattoria e vediamo cosa possiamo trovare perciò vera me Northern i sei Sono davvero cose buone! Ehi, guarda! Chi è? Ecco il signor fagiolino, diciamo ciao a Kale! Ciao Kale! Ciao! Ed ecco un raffanellino nel mio secchio taggiartino! Oh, ciao! C'è un peperone verde brillante, una melanzana in tuta viola! Come va? Come va? Ecco un grande pomodoro rosso! Cosa? Un pomodoro? No! È una frutta! Verdi e gialle, a volte rosse, viola e marroni, o anche arancioni! I peperoncini sono piccanti, ma lo sai, le verdure sono davvero cose buone! Siamo i piselli in un baccello e siamo cool come un melone e non ci sono patatine! Yeah! Yeah, get down! Cool! Siamo pieni di fagioli e diamo i pollici verdi, ma non vogliamo pomodori! Perché sono una frutta! Perché sono una frutta! Sono buona nel pane! Sono buona nel pane! Pane di mais! Yummy! 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 Oh! Sì! Oh! Davvero! Un picnic! La mamma ha comprato un sacco di frutta! Voglio una pesca! Mango! Posso avere dell'uva? Oh! E guarda queste banane! Mi ami! Mi ami! Amo la frutta! Mele e pere! Quale frutta vuoi? Mele! Amo i frutti di bosco! In piccoli morsini! Ciliegie e uva! Avocado e tatteri! Meloni e fichi! In ogni tipo di forma! Oh! Olè! Ma me ha una preferita! Oh! Perché sono tutte carine! Masseggone e banane! Avrà tutta la mitica frutta! Yeah! 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 Uhu! Yeah! 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 Rrrrrra! Vamos! Le pesche sono gnammi! Gnammi! Anche lì ci si brugne! Mango e piwi! Nel mio pancincincincincin! Mandarino, cocco, arancia, pomodori! Rendo la vita più dolce! Ora sì! Le mie dolci patatine! Non è una preferita! Perché sono tutte carine! Ma scelgo le banane! Sì! Fra tutta la mitica frutta! Mio mio mio! Sbucciami l'uva! Oh! Sto arrivando! Ai! Ai! Ciliegie! Arriva! 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 La frutta è salutare! Oh! Ed è anche squisita! Sì! È la caramella della natura! Sì! È la caramella della natura! Ed è molto buona per te! Non è una preferita! Preferita! Perché sono tutte carine! Sono tutte carine! Sono tutte carine! Ma scelgo le banane! Le banane! Tra tutta la mitica frutta! Non è una preferita! Olè! Ai! 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 Melone! Oh! Amo il pompelmo! Ananas! Sì! Oh! Questo sì che astro! La frutta è strabiliante! Oh! 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 Eh! Cinque bambini! Cinque bambini! Bambini! Cinque bambini! Cinque bambini! Cinque bambini saltano sul letto! Uno cadde e urtò la testa! Mamma chiamò il dottore e il dottore disse Basta bambini che saltano sul letto! Quattro bambini, quattro bambini, quattro bambini, quattro bambini! Quattro bambini saltano sul letto, uno cadde e urtò la testa. Mamma chiamò il dottore e il dottore disse, basta bambini che saltano sul letto! Tre bambini, tre bambini, tre bambini, tre bambini! Tre bambini saltano sul letto, uno cadde e urtò la testa. Mamma chiamò il dottore e il dottore disse, basta bambini che saltano sul letto! Due bambini, due bambini, due bambini, due bambini! Due bambini saltano sul letto, uno cadde e urtò la testa. Mamma chiamò il dottore e il dottore disse, basta bambini che saltano sul letto! Un bambino, un bambino, un bambino, un bambino, un bambino! Sono da solo! Un bambino salta sul letto, lui cadde e urtò la testa. Mamma chiamò il dottore e il dottore disse, basta bambini che saltano sul letto! Cinque bambini, cinque bambini, cinque bambini, cinque bambini! Chi ha fatto quel rumore? Non io! Non io! E tutti siamo caduti, sì! Oh, mi sono fatto male!